Armi puntate nella guerra contro il virus. Le armi sono i vaccini e da oggi una delle basi più strategiche per Vicenza e il Veneto in questa guerra sanitaria è SVT. La società Vicentina Trasporti aderisce alla campagna lanciata dal governo e diventa una tra le prime aziende di trasporto italiane a effettuare la vaccinazione sul posto di lavoro. Partecipiamo e siamo fra le poche aziende del trasporto pubblico che hanno dato questa disponibilità. Sono 400 i dipendenti che potranno vaccinarsi in azienda. Ora l'ULS verificata la disponibilità consegnerà le dosi di vaccino al medico incaricato dalla società di trasporti. Verranno organizzati e predisposti dei punti vaccinali nei luoghi di lavoro nel rispetto delle distanze con gli spazi adibiti all'osservazione immediatamente dopo l'inoculazione del vaccino. Fin dall'inizio ho presentato la candidatura di SVT per poter effettuare i vaccini all'interno dell'azienda e il commissario Figliolo ha di recente annunciato che intorno alla prima decade di giugno potrebbero essere iniziate le attività di vaccinazione nei pressi aziendali. SVT sin dall'inizio della pandemia ha adottato tutti i provvedimenti per la salvaguardia del personale e dei cittadini che usano gli autobus. La società Vicentina Trasporti ha anche promosso e commissionato a un laboratorio le analisi su campioni presi da 33 punti diversi all'interno dei pullman e delle autostazioni con i maggiori flussi di passaggio. I risultati hanno dimostrato l'assenza del virus. Dalle analisi che abbiamo effettuato sulle superfici dei mezzi e delle zone maggiormente trafficate nelle nostre stazioni con 33 campionamenti che hanno portato tutti quanti un esito negativo. Grazie. Grazie. Grazie.